Corri il tuo sogno nel Chianti Classico è lo slogan della Chianti Ultra Trail, una delle competizioni più affascinanti nel panorama italiano e internazionale che ha visto sulle varie distanze in programma la partecipazione di oltre 1800 atleti da 40 paesi. Grande successo per la prima edizione della Chianti Castle, il tracciato da 100 km che ha toccato i castelli medievali e i borghi fortificati dell'antica Lega del Chianti. 180 gli ultra trailer che partendo prima dell'alba hanno affrontato un percorso impegnativo fatto di dure salite e discese per oltre 4000 metri di dislivello positivo. La gara femminile ha visto il ritorno al successo della veronese Giulia Vinco di nuovo sul podio dopo le vittorie nel 2019 e nel 2021. La porta colori della Black Warriors è stata autrice di una prestazione eccellente chiedendo la gara in 11 ore e 28 minuti e 43 secondi. Seconda assoluta alle spalle del viterbese Dario Caruso che ha tagliato il taguardo con appena 3 minuti e 40 di vantaggio. Gli atleti valtellinesi dominano invece la gara dei 42 km giunta alla quarta edizione. Tra gli uomini si impone Marco De Gasperi, mentre tra le donne trionfa Elisa Desco. Grazie.